Buongiorno Daedo, preparatevi perché questa sarà una puntata lunga, sarà una puntata impegnativa, dovrete impegnarvi a capire cosa sto dicendo perché oggi parliamo di security, mi sono messo la manietta della security, perché oggi bisogna parlare di due casi di cyber security veramente impattanti, veramente grossi, veramente gravi, che meritano di essere trattati con un po' di attenzione e quindi anche di essere così compresi, capiti? Non andrò troppo nel dettaglio delle cose, però un pochino bisogna capire cosa sta succedendo e quindi vi cucate questa puntatina che piacerà soltanto proprio agli appassionati, però secondo me sarebbe bene che l'ascolteste tutti perché insomma è la cyber security, cioè sono robe che ci possono rovinare la vita in qualunque momento, in qualunque giorno e quindi bisogna un pochino sapere di cosa sta parlando. Quindi questa introduzione la faccio, non la faccio, faccio breve, faccio breve una cosa, una cosa vi dico, perché una cosa frizzante, perché ho letto qualche giorno fa che adesso negli Stati Uniti c'è un caso attorno ai software che muovono il mouse, cioè che fanno finta di muovere il mouse per far sì che chi lavora da remoto inganni il proprio datore di lavoro facendo finta di lavorare, quindi muovendo il mouse, facendo di click a caso delle cose, questi datori di lavoro pensano che il dipendente stia lavorando e invece non è vero. Perché? Perché ci sono dei software che fanno detection dei movimenti del mouse, credo, dei click, insomma, e se non vedono movimenti per un po' di tempo allora capiscono che il lavoratore non sta al computer oppure, non so, per tracciare la produttività vedono quanto il mouse viene mosso, non capisco questa logica. Comunque c'è questa lotta adesso contro questi software che trovate come mouse movers o mouse jigglers che molti lavoratori parlano di usare, c'è un caso attorno a Wells Fargo che è una banca e che ha licenziato dozzine di dipendenti remoti appunto perché ha scoperto che usavano questi software. Ora, cosa mi fa ridere di tutta questa vicenda, a parte il fatto che mi ricorda Homer Simpson quando usava il picchio che andava su e giù per premere il bio sulla tastiera, facendo finta di lavorare fino a far esplodere la centrale nucleare, ma non è... Quello che mi fa ridere è che venga misurata la produttività dei dipendenti controllando che muovano o no il mouse. La cosa veramente ridicola di tutto questo sistema è appunto che vengano licenziati dai dipendenti perché scoperti, non scoperti a lavorare poco, male o insomma a non portare dei risultati in attesa con le aspettative, no, ma perché scoperti a simulare di muovere il mouse. Quindi potenzialmente per mesi o anni questi dipendenti hanno fatto finta di lavorare riuscendo a simulare una produttività misurata e non si sa bene in che modo, in movimenti del mouse. Cioè la cosa proprio ridicola è questa qua, no? Che si sta ancora cercando di misurare la produttività in certi settori con il fatto che qualcuno stia davanti a un computer. Poi che cosa faccia non importa, ma l'importante è che stia lì e che muova il mouse, capito? Che io possa stabilire che quel dipendente è seduto davanti alla mia scrivania, davanti al mio monitor e stia muovendo il mouse. Poi che cosa faccia, che valore porti il suo lavoro alla mia azienda nella fine del mese non mi interessa. L'importante è che stia lì, io se lo pago deve stare lì, in gabbia, questa è una cosa che mi fa veramente impazzire questa roba qua. Basta questa era la intro frizzantina e ora mi raccomando attenzione per le news di Cyber Security di oggi. Allora partiamo da OpenSSH perché apparentemente più di 700.000 server OpenSSH sono esposti su internet contenenti una vulnerabilità potenzialmente esplosiva, devastante, cioè che permette la privilege escalation e l'esecuzione di codice arbitrario da remoto. Ma andiamo, insomma, con ordine, scendendo sempre di più nella dissezione di questa vulnerabilità partendo da destech che inizia da un livello abbastanza alto. Insomma dicendoci che c'è una vulnerabilità critica in alcune versioni di OpenSSH che può essere appunto sfruttata da remoto da un attaccante per ottenere privilegi di root. Questa è una vulnerabilità di tipo Race Condition, ha una CVA 2024 6387 e colpisce in particolare i sistemi Linux basati su GLibC, che è un'implementazione open source della standard library di C, che è stata identificata da Qualis, che è, insomma, sono dei ricercatori di Cyber Security. E questa vulnerabilità è stata chiamata regression, cioè regression ma scritto con SSH, no? Regress, vabbè avete capito. Il suo punteggio di CvSS è 9.2, sapete che CvSS è il punteggio di pericolosità di una CVE che va da 0 a 10, insomma, 9.2, quindi abbastanza alto. Allora ho già detto cose che andrebbero spiegate. Che cos'è OpenSSH? È un'implementazione open source del protocollo SSH, quindi la remote shell, che consente appunto di instabilire una connessione tra un client e un server e eseguire dei comandi su un terminale da remoto. Quindi apre un terminale da remoto su un sistema che tipicamente è un sistema Linux, è un server Linux. Questo è OpenSSH, no? Cioè da decine di anni. Le CVE, sapete che sono delle vulnerabilità che vengono tracciate e pubblicate. Questa in particolare viene chiamata Race Condition. Che cos'è Race Condition? È una condizione che si verifica quando due azioni vengono eseguite contemporaneamente, praticamente, e non è possibile prevedere quale delle due verrà eseguita prima. Questa è una Race Condition, quindi tu dici a un compilatore, a una CPU, a un computer di eseguire due operazioni, però non sai quale delle due verrà eseguite. Per esempio gli dici di leggere e scrivere su uno stesso file contemporaneamente. Quale delle due vince, quale delle due viene eseguita prima, se non lo riesci a sapere, insomma, in questo caso hai una cosiddetta Race Condition. E poi GLibC, l'abbiamo detto, GLibC è l'implementazione della libreria DC, quindi tutti i programmi, tutti i software Linux scritti in C, C++ utilizzano GLibC come standard library. Vuol dire che molte funzioni del sistema sono esposte attraverso questa libreria. Per esempio, in questo caso, poi lo vedremo, la vulnerabilità in particolare sta in una funzione che si chiama Syslog, che è quella che serve per stampare messaggi di log su un terminale, oppure su un file, un remoto, insomma, stampare messaggi di log. Quindi GLibC offre una serie di funzioni che i programmi, i software possono chiamare per diverse funzionalità. Questa è la standard library, no? GLibC. Bellissimo, quindi andiamo avanti un po' con l'articolo di The Stack. Ci vogliono, dice questo articolo, circa da 6 ore a una settimana, dipende dal sistema operativo target di questo attacco, di effort costante, quindi circa 10.000 tentativi per un attaccante, per riuscire a sfruttare questa Race Condition e ottenere una shell con privilegi di root. Quindi, ve l'ho detto, essendo una Race Condition una condizione che non sai se riesci a verificare in un dato momento, allora ci vogliono molti tentativi prima di beccare il momento giusto. Peraltro, in questo caso, devi anche beccare l'esatto momento nel flusso di esecuzione del software per riuscire a intercettare esattamente il punto in cui ti serve che avvenga quella Race Condition. Insomma, quindi ci vogliono molti tentativi, non è che sia così facile sfruttarla. Allora, Qualis, sempre questi ricercatori, hanno detto nel loro avviso che i tentativi di sfruttare questa vulnerabilità possono essere identificati vedendo che ci sono molti log di timeout prima dell'autenticazione, quindi molti log di tipo di timeout, insomma. E quindi i difensori possono considerare di implementare un Rate Limit, cioè di impedire a un certo punto che dopo n tentativi falliti, ecco, di chiudere le connessioni, impedire ulteriori tentativi per appunto non arrivare a questi 10.000 che servono per sfruttare questa vulnerabilità e quindi bloccare le connessioni da quell'indirizzo IP in un certo periodo. E inoltre, come ha detto l'esperto di security Jake Williams, molte aziende, molte organizzazioni non dovrebbero lasciare i server SSH aperti all'intero internet, ma insomma impostare almeno delle polisi di sicurezza. Per esempio le ACL, cioè le access control list delle liste che indicano una serie di indirizzi IP da cui consentiamo che arrivino le connessioni, quindi blocchiamo tutte le altre, che è una roba naturalmente un po' brigosa da impostare, però ci può aiutare ad innalzare lo standard di sicurezza del nostro server. Oppure anche considerare di cambiare la porta di default di SSH. Sapete che i servizi in ascolto su un server da internet hanno assegnata una porta, ecco, la porta di SSH è la 22, se voi cambiate questa porta di default, l'attaccante, non sapendo qual è la porta di SSH, ha ulteriori difficoltà a trovarla. Dice inoltre Qualis che questa vulnerabilità è una regressione, ecco perché si chiama regression, questa ricerca, di una vulnerabilità che è stata precedentemente patchata, la CVE 2006-50-51, che appunto è del 2006, quindi è una regressione che arriva dopo quasi 20 anni, e questo, appunto, questo incidente, questa scoperta, va ancora una volta a gettare luce sul ruolo cruciale del regression testing, che è quel tipo di testing che ci assicura che non ci siano regressioni su cose che sono state precedentemente corrette, precedentemente patchate. Questa regressione è stata introdotta nell'ottobre 2020 in OpenSSH 8.5-P1. È stata scoperta oggi, ma è datata a 4 anni fa. Inoltre l'analisi di Qualis suggerisce che ci siano 700.000 istanze vulnerabili esposte a internet, cioè 700.000 istanze che contengono una versione di OpenSSH che ha questa vulnerabilità. Normalmente non è facile sfruttare questa roba per un attaccante, perché intanto deve conoscere qual è la distribuzione Linux che sta girando su quel server per poter sfruttare esattamente questa vulnerabilità. Come abbiamo detto, ci servono ore e ore di tentativi di login per riuscire poi a sfruttarla, e quindi questo lato difensore assomiglia molto a un brute force, cioè un attacco di tipo brute force, dove uno prova continuamente della roba per riuscire a entrare, ma questo tipo di attacco è facilmente mitigabile dai sistemi che appunto si accorgono che c'è un brute force, quegli tentativi ripetuti, e quindi poi bloccano a un certo punto, come abbiamo detto, da un certo punto in avanti non consentono più un tentativo di accesso di questo tipo. Andiamo un po' più a fondo, trovo su Ars Tecnica. Questa vulnerabilità, scrive sempre Barat Yogi, che è il signor director di Qualis, questa vulnerabilità, se sfruttata, può portare a un compromissione dell'intero sistema, dove un attaccante può eseguire codice arbitrario con i privilegi più alti, e questo può risultare in un takeover, quindi in una presa di possesso dell'intero sistema, installazione di malware, manipolazione di dati, creazione di backdoor con accesso persistente. La falla, eccola qua, arriva da un'implementazione fallace del Signal Handler, che è un componente in GILBC che risponde a eventi potenzialmente molto gravi e dannosi, come tentativi di divisione per zero. Quando un client, quindi qualcuno che sta iniziando la connessione verso il server, prova a connettersi, ma non riesce ad autenticarsi all'interno della finestra di tempo consentita, che di default è 120 secondi, allora i sistemi OpenSH vulnerabili lanciano quello che è conosciuto come questo allarme, Sigalarm, e chiamano un handler, quindi chiamano qualcuno che si occupa di gestire quell'allarme, in maniera asincrona. Qui bisognerebbe spiegare la differenza tra programmazione sincrona e asincrona, ma non possiamo scendere in così tanto dettaglio, però comunque sappiate che il fatto che sia asincrona questa chiamata è una componente cruciale del problema. Comunque quindi la falla sta in SSHD, che è il componente fondamentale di OpenSH, e questa è la falla chiamata regression. Andiamo ancora più a fondo. Damian Miller, fondatore del progetto Portable OpenSH e Mantener dal 1999, ha detto in una discussione online che qualunque cosa che faccia girare GLibC, implementi quindi che includa GLibC, è potenzialmente vulnerabile. Con un'eccezione importante che è OpenBSD, cioè i sistemi che fanno girare OpenBSD come server possono ignorare questa vulnerabilità grazie a un tweak, a un fix di sicurezza che è stato fatto nel 2001. Quindi come abbiamo detto, se il client non si autentica all'interno della finestra di login grace time, quei 120 secondi, ecco viene chiamato SIGALARM e a questo punto l'handler di SIGALARM viene chiamato in maniera asincrona. Il signal handler, questa funzione che deve gestire questo segnale, a sua volta chiama delle funzioni che non sono AsyncSignalSafe come Syslog. E qui l'attaccante può inserirsi per fargli eseguire codice arbitrario proprio da remoto. E a questo punto quindi operare a livello di root e fare un completo takeover del sistema. Quindi il problema qui è proprio Syslog che fa parte di GLibC che deve gestire un segnale. Ma siccome la chiamata Syslog viene fatta in maniera asincrona e Syslog non è AsyncSignalSafe, cioè non gestisce la memoria in maniera safe. Qui ritorna il problema della memory safety che abbiamo discusso molto in questi mesi. Ecco qui c'è un'implementazione che non è SignalSafe in maniera asincrona ma viene chiamata in maniera asincrona. Ecco lì l'attaccante se riesce a capire come inserirsi può andare a eseguire codice con privilegi di root perché SSHD viene eseguito con privilegi di root e quindi l'area di memoria che contiene le funzioni, le chiamate a funzioni di GLibC in quel momento è eseguita con privilegi di root buttandoci dentro puntatori a funzione sto buttando dentro termini che magari sono troppo a basso livello ma comunque facendogli eseguire in quel momento in memoria funzioni arbitrarie qualunque quelle che un attaccante riesce a fargli eseguire quelle vengono eseguiti con privilegi di root ed ecco qua che uno può fare poi Escalation. E qui ci fa anche capire come mai OpenBSD non è vulnerabile? Beh perché OpenBSD ha introdotto nel 2001 una implementazione di Syslog che invece è Async SignalSafe che si chiama SyslogR ecco perché appunto i sistemi OpenBSD sono al sicuro, sono salvi. Naturalmente e torno a dire perché è importante questo exploit cioè riuscire a sfruttare questa roba richiede molto tempo, richiede molti tentativi e poi può essere anche bloccata dal server insomma implementando i meccanismi di security che dovrebbero essere abbastanza standard ecco quindi il fatto che sia una remote race condition e che richieda un timing quindi un tempismo molto particolare la rende difficile da sfruttare. Comunque nonostante ci sia questo bug questa regression e ci sia una ricerca molto dettagliata di Qualis che spiega come potenzialmente ci sono centinaia di migliaia di server esposti su internet con questa vulnerabilità grave perché poi consentirebbe appunto l'esecuzione di codici nonostante questo comunque Qualis quindi i ricercatori lodano il sistema, il progetto Open SSH per appunto gli standard di sicurezza che ha che a parte questo piccolo scivolone ecco questo piccolo scivolone la sua implementazione è praticamente senza macchia ecco senza altri grossi problemi e quindi dice il suo design che metta al primo posto la sicurezza la difesa del codice è un modello, è un'ispirazione e quindi si conclude questo pezzo di Qualis questa ricerca di Qualis lodando e ringraziando gli sviluppatori di Open SSH per il loro lavoro esemplare e prima di chiudere questa news giusto per ricordarvi che la memory safety cosiddetta è un punto cruciale un topic fondamentale della infrastruttura IT globale c'è questo report, questo warning della CISA che è l'agenzia di cyber security americana Cyber Security and Infrastructure Security Agency che mette appunto in guardia sull'uso, sul vasto uso di codice non memory safe nel mondo ed è un report che ci dice che il 52% di progetti Open SSH critici contengono codice scritto in linguaggi non memory safe il 55% delle linee di codice totali in questi progetti sono scritti in linguaggi non memory safe e che anche progetti scritti in linguaggi non memory safe comunque includono componenti scritti in linguaggi non memory safe o memory unsafe insomma e quindi la CISA alla fine raccomanda agli sviluppatori di scrivere codice in linguaggi memory safe come per esempio Rust, Java e Go e pensare di fare una transizione degli attuali progetti da linguaggi memory unsafe a linguaggi memory safe ora Rust, Java e Go implementano la memory safety cosiddetta in modo diverso sarebbe interessante magari andare a vedere in profondità che cos'è la memory safety cosiddetta e come mai Rust, Java e Go sono memory safe invece CPC più no però questo mi richiederebbe un video abbastanza più a basso livello se volete ditemelo che provo a buttarlo giù insomma a farlo magari con qualche disegnino per far vedere come funziona la gestione della memoria manuale tipo in C e C++ e invece automatizzata diciamo così in Rust o garbage collected in Java, in Go in altri linguaggi come funziona questa cosa qua ricordatevi comunque che quando si parla di memory safety non ci si sta ritenendo a una cosa il fatto che un codice, un linguaggio sia memory safe non significa una cosa ci sono varie, è un cappello che racchiude vari tipi di criticità memory safety qui in questo articolo ne sono citati alcuni per esempio Buffer Overflow Use After Free sono solo due, ce ne sono altre insomma bisognerebbe un po' capire che cos'è il buffer che cos'è lo stack, che cos'è lo heap che cosa vuol dire free insomma possiamo andare a vederlo più in profondità non in questo podcast però magari se appunto vi interessa la materia e scoprire cosa sono queste cose qua potete farci un videino dove ve le racconto però insomma questo è indirizzato ai più appassionati diciamo così ed ecco la seconda news sempre di problema di sicurezza critico che è apparso negli ultimi giorni e ha fatto abbastanza rumore e qui sono sul blog di Sonatype che è un'azienda che si occupa proprio di cyber security in particolare di cyber security della supply chain che torno a nominare cioè la cyber security delle dipendenze e degli sistemi di build di un software quindi tu hai un software includi una dipendenza che sta in una libreria che sta da qualche altra parte ecco quella è la tua supply chain cioè la tua catena di fornitura insomma questo è un attacco proprio di tipo supply chain e riguarda il sito polyfill.io in questo articolo di Sonatype appunto ce lo descrive un po' e quindi ve lo vado a dire allora in un attacco alla supply chain appunto abbastanza importante più di 100.000 siti che usano polyfill.io che è un popolare javascript cdn sono stati compromessi ora che cos'è una cdn lo sapete no? ci sono dei server sparsi per il mondo che contengono i file che voi poi dovete scaricare come immagini, css, javascript eccetera ce ne sono tanti perché così quando voi vi connettete a un sito questo può scaricare questi asset dal server che è più vicino a voi e quindi diminuire insomma la latenza che serve per scaricarle questa è una cdn quindi polyfill.io è una cdn quindi un contenitore di file che vi serve delle librerie particolari che sono questi polyfill cosa sono i polyfill? sono delle librerie che venivano molto usati però molti anni fa che consentono ai vari browser di implementare funzionalità di javascript che magari i browser non hanno tipo consentivano a internet explorer versione molto vecchia di implementare alcune cose che in realtà sono state introdotte anni dopo quindi di non rompere dei siti nuovi soltanto perché erano fatti girare su una versione vecchia di explorer insomma così per descriverle in poche parole ma oggi i polyfill non servono più a niente tanto perché tutti i browser moderni si autoaggiorano e comunque è difficile trovare un browser molto datato e poi perché i framework più comuni utilizzati oggi per sviluppare appunto siti web hanno già dei polyfill al loro interno o durante il processo di build dei polyfill intervengono per raggiungere le funzionalità mancanti ma insomma le librerie esterne con i polyfill non dovrebbero servire ma apparentemente invece più di 100.000 siti utilizzano polyfill.io ancora oggi adesso veniamo al fatto concreto all'inizio di quest'anno un'azienda cinese chiamata Funnul si è presa la ownership quindi ha acquisito la proprietà del dominio polyfill.io quello che è seguito è il fatto che da questa cdn fossero distribuiti numerose librerie javascript con codice malevolo con codice dannoso e questo codice interviene sui siti da mobile visitati da mobile e gli va a fare un redirect su siti che sono scam e quando ha scoperto questo attacco Google ha informato i suoi advertiser degli impatti sulle loro landing page che potevano essere contaminate da questi script appunto dannosi e di rivolgersi invece a delle cdn più sicure come Fastly e Cloudflare che nel frattempo hanno impostato dei mirror cioè delle copie di quei polyfill ma sui loro server che sono naturalmente sicuri ora per capire meglio la compromissione di questo polyfill.io vi dico che nel febbraio di quest'anno Andrew Betts che è lo sviluppatore originale del servizio polyfill aveva già messo in guarda i suoi utenti sul fatto che lui non era il proprietario del dominio polyfill.io quindi mesi prima che ci fossero indicazioni di questo attacco e ha scritto Betts se il tuo sito include le librerie del dominio polyfill.io rimuovilo immediatamente io ho creato il servizio polyfill ma non ho mai posseduto il nome di dominio e quindi non posso influenzare quello che succede con la sua vendita oltre ad aggiungere che oggi nessun sito dovrebbe richiedere dei polyfill a lanciare questa allarme è stata Sunsec un'altra azienda di ricercatori sulla cyber security che ha scoperto la settimana scorsa che il dominio polyfill.io era passato di mano e si era poi iniziato appunto a distribuire malware con la sua CDN e continuo poi Sonatype vista quanto è diffuso l'uso di queste librerie non possiamo ancora comprendere quanto è il vero impatto di questo attacco alla supply chain e non lo sapremo per diverse settimane da adesso in avanti ma attacchi come questo possono essere devastanti per esempio appunto possono essere usati per mettere per impiantare delle backdoor dei malware che poi magari possono essere usati per appunto consentire agli attaccanti di prendere il controllo dei device remoti però magari tra un po' di tempo quindi insomma se avete un sito o un'app o qualcosa che include una libreria da polyfill.io toglietela eliminatela a parte che non dovrebbe servirvi ma comunque in questo momento dovete assolutamente toglierla non fate come il JSTOR che è la libreria accademica o il World Economic Forum che ancora includono librerie da polyfill.io come si dice del register che si dice anche che Funnul questa azienda appunto dice di essere basata in Slovenia per qualche motivo ma dice che ha anche uffici in tutto il mondo ma gli indirizzi che sono messi non hanno nessun senso il loro sito è in mandarino e potrebbe essere in realtà ospitato nelle Filippine insomma ci sono anche altre cose strane intorno a questa azienda insomma i sospetti siano che in realtà è un business cinese peraltro peraltro polyfill.io non è l'unica CDN che ha avuto dei problemi di questo tipo e da cui si è scoperto arrivano dei malware ce ne sono altre ce ne sono altre in particolare ci sono bootcdn bootcss e static file e perché lo sappiamo? beh perché i ricercatori si sono accorti che c'erano anche problemi in questi e l'hanno segnalato ai grandi advertiser ai grandi portali tant'è che google ads quando ha mandato quella lettera di cui io parlavo prima agli advertiser dicendo appunto di fare attenzione alle inclusioni dei librerie da polyfill.io in realtà non nomina solo polyfill ma nomina anche bootcss.com bootcdn.net staticfile.org e altre quindi in realtà adesso tutti gli avvisi che avete visto in giro nominano in particolare polyfill.io ma la vicenda è più grande comprende altre cdn e si è scoperto che dietro a tutti questi attacchi di tutte queste cdn c'è una persona sola c'è un unico attore così viene chiamato perché si è scoperto un repository pubblico su github che accidentalmente ha esposto le chiavi cloudflare quindi le chiavi del servizio cloudflare con i dns che portano poi ai domini polyfill.io e agli altri ecco che erano appunto finite in questo file .env in un repository su github che conteneva appunto le API token di cloudflare gli zone ID di cloudflare altre API keys di Algolia insomma un po' di roba che poi hanno fatto capire che qua dietro c'era una persona sola e non solo si è scoperto anche che questi malware potenzialmente sono in giro da diverso tempo addirittura da giugno del 2023 quindi potrebbe essere ancora più larga di quello che si pensa la superficie di questo attacco addirittura Matthew Prince che è co-founder e CEO di cloudflare ha detto che soltanto per polyfill.io si sta parlando probabilmente del 4% dell'inteno web quindi è molto preoccupante questo attacco ma attenzione perché qualche giorno fa colpo di scena in questa storia cioè l'attuale possessore del dominio polyfill.io ha respinto le critiche ha risposto su X su Twitter dicendo che tutta questa campagna è stata messa in piedi da cloudflare come campagna mediatica perché lui con polyfill.io vuole creare un servizio di CDN molto migliore più economico più insomma veloce sicuro rispetto a cloudflare e quindi i media stanno lanciando della merda contro la sua iniziativa imprenditoriale però in realtà lui non sta distribuendo malware lui sta creando un servizio di CDN che poi vuole fare concorrenza a appunto cloudflare e falastri parla proprio di diffamazione dice che non c'è nessun rischio per la supply chain e i suoi tweet li potete trovare appunto su Twitter e il suo account è at polyfill underscore global e qui per esempio ce n'è uno dove appunto parla della diffamazione di cloudflare insomma questa roba è abbastanza frizzante anche questa vicenda tanto per combattere la presenza su internet di queste CDN i loro domini vengono spenti dai registrant per esempio polyfill.io è stato spento da Namecheap ma è subito nato polyfill.com poi è cancellato anche quello e tutti gli altri anche lì a cascata creano e ricreano domini appena vengono cancellati poi ne vengono tolti quindi è un po' tipo un caccia alla talpa con il martellino con il martellino continuano a spuntare domini nuovi questi vengono schiacciati ma ne spuntano sempre degli altri ma insomma la vicenda non è finita noi saremo qua a seguirla spero che questo piccolo resoconto vi abbia un po' illuminato sul problema della security nella supply chain più grave che c'è al momento che è polyfill.io e magari facendo coppia con l'altro problema di security che ho messo prima vi faccio un po' intuire che siamo in un momento abbastanza grave per quanto riguarda no grave magari è troppo però delicato per quanto riguarda la cyber security in generale di internet i due link che vi lascio sono inerenti alle vulnerabilità che vi ho descritto oggi il primo appunto è il security advisory di Qualys su regression è molto lungo è molto dettagliato c'è un sacco di codice ma vi spiega molto bene dove sono le vulnerabilità come funziona come vengono sfruttate e come sono state sfruttate proprio da Qualys nel loro exploit quindi capite anche come funzionano le allocazioni di memoria le allocazioni di buffer le liberazioni cioè le free della memoria insomma io me lo sono letto devo dire che è impegnativo ma non è troppo difficile da capire non richiede grandissime conoscenze cioè basta che metto una conoscenza a base dell'informatica secondo me si capisce ed è molto molto bello secondo me è fatto molto bene insomma vi dà una migliore comprensione di questo programma di security e degli altri programmi di security che possono venire fuori con queste implementazioni con GLBC e in generale con le implementazioni di memory unsafe DC e C++ insomma io se avete un po' di conoscenze informatiche vi consiglio di leggerlo perché davvero merita è un ottimo lavoro e poi riferito invece a polyfill.io vi do questo dominio che è polykill.io invece questo sito che raccoglie le segnalazioni di tutti i siti che includono librerie da polyfill.io quindi è un è un CVS scusate un CSV con una lista di tutti i domini che includono queste librerie e voi potete segnalare dei domini che avete appunto scoperto contengono queste queste librerie quindi per avere appunto poi una lista e poterla poi mettere magari in blacklist eccetera insomma polykill per contribuire ecco all'awareness intorno al problema di polyfill.io ce l'ho fatta a portare a casa anche questa puntata è stata dura oggi devo dire che è stata abbastanza impegnativa da fare e immagino e sono sicuro che sarà impegnativa anche da ascoltare quindi a questo punto il finale sto ringraziando e salutando credo una decina di persone grazie comunque a voi 10-12 siete qui a salutarmi avete ascoltato tutta la puntata complicatissima e come vi dicevo comunque se vi interessano queste cose volete ancora più approfondimenti a parte seguite tutti gli aspetti che non sono io quindi non so non vi cito nessuno perché sennò farei torto agli altri ma insomma seguite esperti veri di cyber security che vi spiegano queste cose un pochino più dettagliatamente insomma seguite eventi come Akinbo che sono eventi gratuiti questo naturalmente a Bologna però ce ne sono altri in giro per l'Italia dove scoprite queste cose e basta che vi devo dire ancora ah se volete che vi faccia un video più dettagliato su che cos'è la memory safety a me piacerebbe farlo però è lungo non lo so e poi non so quanto interesse possa raccogliere quindi fatemi sapere se vedo che c'è un po' di interesse allora potrei farlo e basta ho finito anche questa puntata grazie per avermi sentito noi ci sentiamo a una prossima ciao